Bene, inizia il primo giro lanciato del nostro pilota Marco Avanzini Sfondiamo, sta piacendo Ci siamo Commenti a caldo Siamo pronti, qui siamo sull'attilineo Quinta, sesta a 270 all'ora Sì, magari E arriviamo per la staccata della prima variante Per il terreno dei 300 metri Porco Dio, i gilaterali Quindi si avverte una forte decelerazione Facciamo il nostro primo ingresso Destra e sinistra sentiamo le gomme che stringono Che cantano, cantano le gomme Cerchiamo di uscire forza e sfruttando tutta la pista E adesso ci lanciamo per il cordone di assono Dove si fa scorrere molto la macchina Si mettono tutte le marce Stia zitto e stia concentrato Scusi Ci possiamo permettere con tale potenza Con tale potenza Una frenata decisa Bravo Il ingresso non perfetto Dove vi dire Però abbiamo andato comunque Hai recuperato qualcosa in uscita? Sì, sì Parziale è ottimo Vinciniamo nel ingresso Nella prima di Lesmo Uuuuh Preciso M***a, ma se spacchetta questo? Ma riprende Ma hai visto come ha detto E ma PGRC è Dietro grandi errori Non l'altro Quanto non esistono Non sa Quanti cavalli di acqua è per lì E' un 2000 benzina quello Andiamo di fare del nostro meglio Sfiora a sinistra la volante del serraglio Per arrivare giù alla scala Tutte le marce anche qui Quinta piena Un po' di traffico Lasciamo correre così Vediamo Esploriamo Dalla direzione Cerchiamo di uscire forte Grande motore Stiamo in scia Vediamo di uscire Prima della parabolica Inchia Tanto dietro abbiamo delle macchine Di un certo livello Uuuuh Uuuuh La manetta Parabolica Nessun Un po' di far scorrere Possibile Concludere questo primo giro Un parziale Interessante Eccolo Uuuuh Ci siamo Uuuuh Bravo Siamo soddisfatti Diciamo che la performance È interessante A qualche punto Bisogna migliorarlo Non si preoccupi Ce la parà Siamo soddisfatti